Voglio brevemente recensire in video questo nuovo lipstick long lasting della linea Kiko Lostina Malfi Ho provato già altri prodotti che recensirò molto presto Quello che ho già applicato è un primo strato di questo lipstick che riapplicherò in diretta per voi La texture è cremosa però la caratteristica è che pochi secondi dopo l'applicazione la crema si trasforma in powder Quindi il rosetto diventa davvero a lunga, lunghissima tenuta Io ci ho mangiato tranquillamente e il rosetto è rimasto assolutamente inalterato Io l'ho acquistato, non so se riesce a vedere a favore di videocamera La tonalità numero 5, una sorta di rosso corallo Devo dire che lo trovo eccezionale sia in questo periodo ancora estivo che in un periodo autunnale Si abbina molto bene ai colori bronzati, il rosso verde per esempio sugli occhi come ho fatto io realizzando questo make up Lo trovo veramente eccezionale L'unico piccolo neo se proprio devo trovare un piccolo difetto è che dopo qualche ora di applicazione si secca un po' sulle labbra Ma questa è un po' una caratteristica diciamo delle tinte long lasting Perché appunto per durare devono in qualche modo fissarsi Comunque io lo trovo davvero eccezionale Per altre recensioni seguitemi sul giorno della bellezza Molto presto recensirò anche altri prodotti della linea Lost in Amalfi Che mi ha qualche incuriosito Ciao e a presto